Molto bene, Radiolinea numero uno, buon weekend! FM, TV, App e Web, allora è arrivato il momento in cui vi guidiamo, o meglio i Camillas vi guidano in giro per il mondo per segnalarvi gli eventi più importanti di questi giorni. I migliori eventi nel mondo. Cosa facciamo stasera? Eventi da tutto il mondo. Vai! Scusate, per circa tre secondi non sapevo cosa fare. Hai durato poco. Ma quello è un problema che io... Ma glielo risolvo subito io il problema. Perché io so che cosa fare. Gli eventi! Partiamo subito domani. Sulle colline di Montbagbagse, Molise, primo concorso nazionale per diventare mascotte d'Italia. Hai dei difetti fisici simpatici? Sì! Vieni anche tu! Forse verrai selezionato. Atteso, Biagio Antonacci. Poi, giovedì sera, riprende dopo 35 anni di pausa, la Sagra dei Ciuccioli a Tvodat in Texas. Il Ciucciolo è questa figura mitologica, un po' torsolo di mela, un po' frusta. Si passa la città in processione e quando i Ciuccioli si incontrano fanno ciu-ciu-ciu-ciu. Sì, certo! Stasera, eventi da tutto il mondo.